Cerchiamo di capire ora quali furono le ragioni per le quali la Chiesa intorno all'anno 1000 visse una crisi spirituale. Che cosa succede all'interno della Chiesa? Beh, intorno al 1054 innanzitutto ci fu lo scisma d'Oriente attraverso il quale la Chiesa d'Oriente guidata dal Patriarca di Costantinopoli si separò dalla Chiesa di Roma guidata dal Papa. Da quel momento la Chiesa orientale si chiamò Chiesa ortodossa, cioè della giusta opinione, perché evidentemente ritenevano di avere la giusta opinione circa la fede e la fede cristiana. Quando Gregorio VII divenne Papa, una ventina d'anni dopo, la Chiesa era sempre più corrotta e sottomessa all'imperatore. Allora Gregorio VII con il Dictatus Pape affermò l'indipendenza e la superiorità del Papa sull'imperatore. Siamo intorno al 1075. Dopo un forte scontro con Gregorio VII, l'imperatore, che allora era Enrico IV, fu costretto a chiedere perdono e lo fece a Canossa, presso il feudo di una donna molto influente al tempo che fu Matilde di Canossa. La lotta per le investiture continuò fino alla firma del concordato di Worms, con il quale concordato nel 1122 il Papa e l'imperatore trovano un accordo. Che cosa stava succedendo all'interno della Chiesa? La Chiesa a quel tempo aveva sempre più potere politico e questo la allontanava dai compiti religiosi. Molti sacerdoti, molti vescovi erano corrotti e cioè usavano il potere per fare soldi. Vendevano anche le cariche religiose e perfino il perdono dei peccati. Si pagava, cade il soldino nella cassetta, sale in cielo l'anima benedetta. Tra il novecento e il millecento nascono nuovi ordini di monaci benedettini, i cluniacensi e i cistercensi, che cercano di migliorare i comportamenti delle persone di Chiesa. E perché la Chiesa si divide? Appunto nel 1054 la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente si separano perché il Patriarca di Costantinopoli non voleva più essere sottomesso al Papa di Roma e così si ha lo scisma d'Oriente con la creazione della Chiesa Ortodossa. Che cosa succede durante la lotta per le investiture? Che continua in Occidente questa lotta per le investiture tra il papato e l'impero nel concilio lateranense? I vescovi decidono che l'imperatore non può più eleggere il Papa e per questo motivo Papa Gregorio VII e l'imperatore Enrico IV si scontrano duramente con il concordato di Varus, però il Papa e l'imperatore trovano un accordo e il potere della Chiesa viene separato dal potere dello Stato. E perché nascono le eresie? Come reagisce la Chiesa alle eresie? Che cosa sono queste eresie? Sono dei movimenti popolari che protestano contro la corruzione del clero. Eresia vorrebbe dire opinione personale. Tra il 1100 e il 1300 nascono queste opinioni e la Chiesa crea il Tribunale dell'Inquisizione per condannare questi eretici che avevano delle idee che si discostavano da i dogmi. La Chiesa crea appunto il Tribunale dell'Inquisizione per condannare questi eretici e invece approva gli ordini di monaci mendicanti come per esempio i Francescani e i Domenicani perché aiutavano i bisognosi e avevano come voto quello di povertà. Vediamo un po' più nel dettaglio. Chiesa del X secolo era sempre più lontana dal suo ruolo morale, di guida morale e spirituale. I vescovi, gli abati erano dei feudatari che gestivano il potere politico come un governante quale che fosse. Mentre il papa ormai era a capo di un vero e proprio stato e cercava, come tutti i capi di stato, di rafforzare il proprio potere temporale. Tra il 1000 e il 1200 nacquero delle nuove eresie, cioè questi movimenti che protestavano per l'accrescersi del potere temporale e della corruzione del clero. Lo scisma, abbiamo visto, cosa significa il termine scisma? Indica la rottura irreparabile dei rapporti tra la chiesa di Roma e la parte della cristianità che rivendicava la propria autonomia e si distaccò dalla chiesa di Roma andando a fondare una nuova chiesa, la chiesa d'oriente o ortodossa, che venne da allora guidata dal patriarca di Costantinopoli che non riconosceva il papa come capo della cristianità e per questo si separò dalla chiesa di Roma con sede a Roma. In questo periodo, infine, il concordato di Worms mise fine alla lotta per le investiture. Stabiliva che l'investitura religiosa spettava il papa. Se c'erano da nominare dei religiosi, questo compito spettava al papa, mentre l'investitura temporale spettava all'imperatore e l'imperatore non aveva più nessun potere sull'elezione del papa. Uno degli episodi della lunga lotta tra impero e papato per avere il diritto di nomina sui vescovi e imporsi come potere universale superiore a tutti gli altri fu il dictatus pape, con cui papa Gregorio VII 1075 ribadiva la propria supremazia e vietava agli ecclesiastici di ottenere cariche religiose date dall'imperatore. Il dictatus pape è una raccolta di 27 brevi articoli, alcuni dei quali leggiamo. Articolo 1. La chiesa romana è stata fondata da Dio. 2. Soltanto il pontefice romano è chiamato universale, cattolico. 3. Solo il pontefice può deporre o restabilire i vescovi. 9. Tutti i principi devono baciare i piedi, soltanto al papa. 11. Il titolo di pontefice è unico al mondo. 12. È lecito al papa deporre l'imperatore. 19. Nessuno può giudicare il papa. 26. Non deve essere considerato cattolico chi non è d'accordo con la chiesa di Roma. 27. Il pontefice può sciogliere i sudditi dalla fedeltà verso chi è ritenuto malvagio, scommunica. Ma perché questa crisi morale e spirituale della chiesa? Che cosa stava succedendo all'interno della chiesa? Abbiamo visto nell'Alto Medioevo i vescovi erano diventati molto importanti, non solo perché aiutavano la popolazione indifesa e impoverita, ma perché in molti casi governavano città, governavano feudi. Numerosi vescovi avevano assunto un grande potere politico, tanto che si erano trasformati in funzionari imperiali, cosiddetti vescovi conti, che si occupavano ben poco dei loro compiti religiosi. Anche il papa aveva aumentato il proprio potere temporale, perché era capo di un vero e proprio stato che, da Roma, si estendeva tutto il Lazio fino alle Marche e alla Romagna. Le nobili casate, le nobili famiglie romane, facevano di tutto per fare leggere papa un proprio membro e ottenere così il potere e la ricchezza che derivavano dall'incarico di papa. Visto che si dedicavano più agli affari politici che alla spiritualità, molti ecclesiastici si allontanarono dagli insegnamenti del Vangelo e persero di vista la propria missione religiosa. E questa fu la causa della crisi morale, della crisi spirituale della Chiesa fra il X e l'XI secolo. Erano sempre di più i religiosi corrotti e religiosi che, ovvero, usavano il loro incarico per arricchirsi. Per esempio, assegnavano le cariche religiose, come quelle di Vescovo Abate, in cambio di danaro e vendevano ai fedeli l'assoluzione dei peccati. Questo commercio di cose sacre venne chiamato simonia. La parola deriva da Simon Mago, un personaggio del Nuovo Testamento che cercò di comprare da San Pietro i doni dello Spirito Santo. Oltre questo, nelle piccole chiese di campagna che appartenevano ai signori feudali, spesso si trovavano sacerdoti scelti non per i loro meriti spirituali, ma perché garantivano fedeltà al feudatario. Un segnale di rinascita arrivò dai nuovi ordini benedettini, perché molti ecclesiastici iniziarono a sentire l'esigenza di riformare la Chiesa dal proprio interno. E tra il X e l'XI secolo così nacquero alcuni ordini monastici che volevano ricondurre la Chiesa alla purezza delle origini e aiutare il clero a comportarsi in modo più onesto, recuperando il ruolo di guida spirituale e morale. Tra i primi ci furono i monaci benedettini dell'Abbazia di Cluny, in Francia questo Cluny. Già prima del 1000, intorno al 900, fondarono l'ordine cluniacense. La regola di questo ordine ridusse le ore di lavoro manuale e aumentò il tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria. I monasteri cluniacensi divennero inoltre importanti centri di cultura. Dalla Francia il movimento cluniacense si diffuse in tutta Europa e poi nelle città dove anche molti laici si ribellavano ai vescovi corrotti. Quasi due secoli più tardi, intorno al 1098, i monaci benedettini del monastero francese di Citeaux, in latino cistercium, si dettero una regola che prevedeva un ritorno alle attività manuali, una vita semplice, povera e tante ore di lavoro nei campi e così nasceva l'ordine cistercense. I monaci cistercensi bonificarono e dissodarono grandi estensioni di terreno rendendole così coltivabili. Una fonte è stato l'arcivescovo a nominarmi vescovo. Per ottenere tale titolo gli ho versato cento scudi d'oro. Se non l'avessi fatto non avrei mai ottenuto la carica vescovile. Ora, se non muoio prima, nomino io nuovi preti e ricevo in cambio del danaro. Nomino io nuovi diaconi e incasso somme notevoli e così faccio rientrare nelle mie tasche il denaro che ne era uscito nella chiesa dei nostri tempi. Praticamente nulla vi è che non sia dato in cambio di danaro vescovadi parrocchie sacerdozio con tutto quel che ne consegue da abbon abate del monastero benedettino di Fleury e poi vescovo decimo secolo. Diciamo ora qualcosa dello scisma questa parola che vuol dire separazione divisione. La chiesa si divide a causa del rafforzarsi del potere del Papa di Roma nel 1000 la chiesa d'Occidente aveva questo problema molto grave con la chiesa d'Oriente i rapporti tra chiesa d'Oriente e chiesa d'Occidente erano peggiorati a causa della crescita del potere politico del Papa e inoltre la chiesa d'Oriente e quella d'Occidente erano geograficamente culturalmente molto lontane tra loro. chiesa d'Occidente aveva la sua sede a Roma e usava come lingua ufficiale il latino fino a qualche decina d'anni fa i suoi territori facevano parte del sacro romano impero germanico e il Papa e l'imperatore germanico erano in lotta per il potere perché come abbiamo visto il clero era sempre più occupato ad accrescere le proprie ricchezze e il proprio potere temporale invece la chiesa d'Oriente aveva il suo centro a Costantinopoli e la sua lingua era il greco chiesa d'Oriente faceva parte dell'impero bizantino infatti e il patriarca di Costantinopoli cioè il capo della chiesa sottostava all'autorità dell'imperatore la chiesa d'Oriente aveva un peso politico non rilevante quindi la chiesa d'Oriente si dedicò maggiormente alle questioni spirituali e mistiche così nel 1054 con lo scisma d'Oriente la chiesa d'Oriente si separò da quella di Roma perché il patriarca di Costantinopoli si rifiutò di dipendere dal vescovo di Roma da quel momento ci furono due chiese cristiane indipendenti da una parte la chiesa d'Occidente chiamata da allora cattolica universale che aveva come capo spirituale il Papa dall'altra la chiesa d'Oriente o Ortodossa custode della giusta dottrina Ortos giusto doxa opinione che aveva come capo il patriarca di Costantinopoli nella chiesa d'Oriente si parla il greco nella chiesa d'Occidente si parla il latino la chiesa d'Oriente si prega in piedi la chiesa d'Occidente si prega in ginocchio nella chiesa d'Oriente i sacerdoti sono obbligati ad avere la barba nella chiesa d'Occidente i sacerdoti devono radersi nella chiesa d'Oriente i sacerdoti si possono sposare nella chiesa d'Occidente i sacerdoti devono essere celibi nella chiesa d'Oriente l'Eucarestia pane lievitato in quella d'Occidente l'Eucarestia pane azimo chiesa d'Oriente ha la croce con due bracci uguali croce greca nella chiesa d'Occidente si ha la croce latina col braccio verticale più lungo il capo della chiesa in Oriente è il patriarca di Costantinopoli che sottostà all'imperatore nella chiesa d'Occidente il capo della chiesa è il papa di Roma primo vescovo di Roma primus inter pares che vuole dominare anche con un potere politico e infatti tra il 1000 e il 1100 si riaccese la lotta per il potere tra l'imperatore germanico e il papa questa lotta era iniziata nel 962 con l'emanazione del privilegio motonis quale privilegio aveva stabilito il consenso dell'imperatore per l'elezione del pontefice cioè nessuno poteva essere eletto papa senza che Ottone avesse dato il suo consenso papa Niccolò II decise di rimettere l'elezione del papa nelle mani della chiesa e di dare inizio a un'opera di riorganizzazione del clero e così nel 1059 convocò il concilio lateranense un'assemblea di tutti i vescovi che si svolse nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma una fonte siano i cardinali e i vescovi a scegliere il pontefice eleggendolo al vertice della sede apostolica se qualcuno poi in contrasto con questo nostro decreto è papa Niccolò II che parla verrà eletto mediante tumulto o usurpazione o in qualunque altra maniera indegna costui sia da tutti ritenuto non papa ma satana e per l'autorità di Dio sia soggetto a perpetua maledizione insieme con i suoi fautori e seguaci da monumenta Germania e storica Niccolò II proclama l'autonomia della chiesa dal potere imperiale lo scontro tra il papa e l'imperatore raggiunge il suo culmine con Gregorio VII Enrico IV il concilio lateranense aveva stabilito l'indipendenza della chiesa dall'impero ma questa indipendenza venne marcata ancora più decisamente con papa Gregorio VII perché nel 1075 Gregorio VII scrisse il Dictatus Pape i precetti del papa 27 brevi dichiarazioni che definivano altrettanti poteri del pontefice in pratica affermavano che il pontefice era indipendente e superiore a tutti anche all'imperatore inoltre questi articoli precetti stabilivano che solo il papa poteva incoronare l'imperatore e deporlo qualora lo giudicasse indegno questo documento Dictatus Pape di Gregorio VII non piacque all'imperatore Enrico IV e allora Enrico IV in risposta al Dictatus Pape nel 1076 chiese ai vescovi e ai principi tedeschi suoi alleati di deporre il papa Gregorio VII reagì duramente con la scomunica articolo 27 l'imperatore in questo modo non faceva più parte della chiesa comunico noi diciamo comunicare fare la comunione quindi fare parte di una comunità scomunicare non si fa più parte di quella comunità e comunque il potere che si ha in quella comunità non viene più riconosciuto nessuno è tenuto a obbedire a un re scomunicato nel 1077 Enrico IV dovette così venire in Italia per implorare dal papa ospite nel castello della contessa Matilde di Canossa il perdono e la revoca della scomunica possiamo fare una lettura sinottica la gerarchia dei poteri secondo Ottone I che aveva imposto il privilegio Motonis e la gerarchia dei poteri secondo il Dictatus Pape di Gregorio VII la differenza sta nel fatto che appunto l'imperatore elegge il papa e i vescovi per il privilegio Motonis e invece per il Dictatus Pape il papa ha il potere di nominare sia l'imperatore sia i vescovi vediamo una fonte Enrico IV Tu hai scambiato la nostra umiltà per paura e non hai esitato a levarti contro la nostra autorità regale a noi concessa da Dio che hai osato minacciare di toglierci discendi abbandona la sede apostolica che hai usurpato e al soglio di San Pietro salga un altro che non nasconda la violenza sotto il manto della religione ma insegni la sana dottrina di San Pietro io Enrico per grazia di Dio insieme con tutti i vescovi ti dico discendi discendi uomo dannato per tutti i secoli questo Enrico IV al Papa ora Gregorio VII oh beato Pietro sorretto dalla fede per l'onore e la tutela della tua chiesa da parte dell'onnipotente Dio Padre Figlio e Spirito Santo con il tuo potere la tua autorità tolgo di mano il governo del regno italico e germanico al re Enrico figlio di Enrico imperatore il quale con inaudita superbia si levò contro la tua chiesa e sciolgo dal vincolo di giuramento tutti i cristiani che gliel'hanno prestato è giusto che perda il suo onore colui che si sforza di diminuire quello della chiesa questo Gregorio VII a Enrico IV cosa stabilisce il concordato di Worms nel 1122 finalmente viene firmato tra Papa Callisto II e l'imperatore Enrico V e stabilisce che l'investitura religiosa spetta al Papa mentre quella temporale all'imperatore il quale assegnava i vescovi un feudo da governare in Italia l'investitura ecclesiastica sarebbe avvenuta prima di quella feudale mentre in Germania sarebbe accaduto il contrario cioè prima l'investitura imperiale e poi quella ecclesiastica inoltre l'imperatore non aveva più alcun potere sull'elezione del Papa si trattò di un compromesso ma il concordato di Worms è importante perché per la prima volta un documento ufficiale riconosceva la separazione tra il potere dello Stato e il potere della Chiesa quando ricevete la scomunica Enrico IV per ottenere il perdono di Gregorio VII e quindi il ritiro di questa scomunica nell'inverno del 1077 fu costretto ad aspettare per tre giorni e per tre notti che il Papa lo ricevesse a casa di Matilde di Canossa attese nella neve scalzo e con indosso un abito da penitente fuori dalle porte del castello di Matilde di Canossa in Toscana tra la Toscana e l'Emilia Romagna da allora l'espressione andare a Canossa significa implorare perdono essere costretti a chiedere scusa umiliarsi sottomettersi in modo totale ora vediamo qualcosina di più sulle eresie quali sono queste eresie che nascono per contrastare la corruzione del clero con la fine dello scontro con l'impero i problemi della chiesa non erano però terminati tra il 1100 e il 1200 la chiesa dovette combattere contro nuove eresie nacquero come movimenti popolari di protesta contro il comportamento del clero contro il potere temporale del papa è il caso del movimento valdese che esiste ancora oggi nato a Lione in Francia dalla predicazione del mercante Pierre Valdez in italiano Pietrovaldo il quale tradusse il Vangelo dal latino al volgare francese in modo che tutti potessero capirlo Valdez inoltre condannò la distanza tra i comportamenti del clero e gli insegnamenti del Vangelo e negò la funzione del sacerdozio fu scomunicato e i suoi seguaci perseguitati come eretici anche il movimento dei catari catarossi in greco puro che ebbe il suo centro nella città di Albi e si diffuse nel sud della Francia fu condannato come movimento eretico e infatti non si limitò a criticare i religiosi corrotti ma rifiutò di riconoscere l'autorità del Papa e fondò una propria chiesa contro i catari nel 1208 Papa Innocenzo III promosse una vera e propria crociata nota con il nome di crociata contro gli albigesi che durò anni e finì con la distruzione del movimento dei catari che oggi non sopravvive naturalmente più invece i valdesi sì esistono ancora per reagire a queste eresie intorno al 1230 la chiesa istituì il tribunale dell'inquisizione da chi era composto da vescovi da giudici nominati dal Papa il compito del tribunale dell'inquisizione era individuare gli eretici e riportarli alla dottrina cattolica innanzitutto tramite l'insegnamento e nei casi più ostinati ricorrendo a multe alla confisca dei beni e solo quando l'eretico non si pentiva i giudici potevano arrivare a condannarlo alla morte sul rogo siccome la chiesa riconobbe la necessità di un rinnovamento che rispondesse alle critiche che le venivano rivolte approvò anche nuovi ordini religiosi per esempio i domenicani il cui ordine fu approvato intorno al 1216 e i francescani il cui ordine venne approvato intorno al 1223 questi ordini vennero chiamati mendicanti perché vivevano di elemosine non possedevano beni e seguivano i principi evangelici della povertà umiltà carità questi ordini non mettevano in dubbio l'autorità della chiesa e per riconquistare la fiducia dei fedeli davano assistenza ai bisognosi ai poveri e li aiutavano nella loro crescita religiosa e fu soprattutto nelle città dove le eresie si diffusero maggiormente che i frati fratelli suore sorelle si chiamavano così offrirono i loro servizi dalla regola di san francesco capitolo primo la regola è di vivere in obbedienza a castità e senza beni propri seguendo la dottrina e le orme del nostro signore gesù cristo che dice se vuoi essere perfetto vendi tutto e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo capitolo 2 i fratelli poi quelli che promisero obbedienza abbiano una unica tunica con cappuccio e un'altra senza se occorre e le brache e tutti i fratelli siano vestiti di vesti vili e possano rappezzarle con pezzi di sacco o d'altro capitolo ottavo nessun fratello dovunque sia o vada accetti danaro neppure per causa di vesti libri o compenso di lavoro in nessun caso e se in qualche luogo troveremo danari non curiamoli più della polvere che calpestiamo capitolo quattordicesimo quando i fratelli vanno per il mondo non portino seco per via né sacco né valigia né pane né danaro né bastone e in qualunque casa entrino dicano prima pace a questa casa non resistano al male ma a chi percuoterà loro una guancia offrano l'altra e non si oppongano a chi vorrà levare loro la veste o la tonaca e non ridomandino le cose che sono state tolte loro qualcosa di artistico quali sono gli stili architettonici delle cattedrali del basso medioevo sono il romanico e il gotico la cattedrale innanzitutto che cos'era era la chiesa più importante della città medievale ed era chiamata così perché era il luogo in cui si trovava la cattedra la sedia con i braccioli che è la sedia il seggio la sede dove l'arcivescovo rivolge al popolo le sue omelie dall'anno 1000 fino al 1200 le cattedrali vennero costruite in stile romanico mentre tra il 1100 e il 1400 si affermò lo stile gotico stile romanico era chiamato così perché aveva elementi simili all'architettura romana c'erano gli archi a tutto sesto c'erano le volte c'era il protiro un breve atrio che precede il portale d'ingresso il portale d'accesso principale la facciata i soffitti erano spesso fatti in legno in strutture in legno che sorreggevano il tetto le capriate c'era di solito una struttura a croce latina con una navata centrale che terminava in un abside uno spazio semicircolare e poi delle navate laterali e poi una transetto una diciamo navata posta trasversalmente rispetto a quella centrale e poi appunto c'era il presbiterio la zona dove si celebravano le funzioni e dove era posto l'altare le cattedrali romani che per queste caratteristiche sono solide hanno un aspetto austero severo solenne buio hanno forme lineari vengono costruite utilizzando legno pietra all'interno l'ambiente è raccolto silenzioso intimo ispira la preghiera è decorato con bassorilievi con sculture che rappresentano una vera e propria bibbia di pietra invece la definizione gotico viene da goti ebbe in origine il senso dispregiativo di barbarico questo stile gotico si diffuse dalla francia centrale in tutta l'europa centro-settentrionale anticamente abitata da popoli germanici le cattedrali gotiche sono altissime si slanciano verso il cielo religio vuol dire collegare appunto cielo e terra e questo in segno di desiderio dell'uomo di spingersi verso dio e gli elementi caratteristici del gotico sono archi a sesto acuto per esempio e le vetrate immense dipinte con molti colori vetri colorati con scene evangeliche figure di santi alla facciata gotica si affiancano in genere torri campanarie spesso anche un grande rosone sovrasta l'ingresso principale gli archi sono rampanti e a terminazione delle torri campanarie ci sono guglie e pinnacoli qui